Perciò ci siamo, siamo messi al 49,5 alla bella, erano 44, sono arrivati 6 a 6. Buongiorno ragazzi, come vi ho anticipato ieri, così sono passato al volo, oggi c'è l'operatore e poi questi filmati andranno sul portale di Giovani Promesse, giustamente sarà visto da tanta gente, perché qualcuno ha cominciato a fare qualche domanda a Gian Maria, ad Alberto, noi adesso faremo tutto quanto il percorso, dopo tutto il percorso mi confronterò insieme ai miei collaboratori, a Primo, a Alberto, a Gian Maria e a Vincenzo, che faranno delle considerazioni su di voi, che percorso prende e che cosa fa, capire chi, come, dove, mandarlo, ok? Chi è pronto per fare certi percorsi o chi è ancora certo e deve fare altri passaggi per arrivare a un certo tipo di obiettivo, ok ragazzi? Qua c'è il signor Mario che è l'operatore, che oggi girerà, lo vedete in campo, mi raccomando questo, non facciamoci scappare parolacce, qualche sarà, ok? Va bene ragazzi, comportiamoci, ok? Menù del giorno, per un discorso televisivo, oggi faremo il classico riscaldamento che i mister faranno, poi ci sarà del lavoro di trasmissione e infezione in fase statica, cosa vuol dire in fase statica? Non lo so, da fermo, bravissimo, e poi in fase dinamica, lavoreremo su queste cose qua, poi dopo chiuderemo con una partitella, perché serve a Mario per i quadrati, nel pomeriggio sarà tutti i tornini, infatti c'è queste cose qua, ok? Va bene? Sono stato chiaro? Comportiamoci bene, mi raccomando, perché c'è l'operatore che fa le immagini, ok? Sarà qua, nei due campi, adesso parte subito con i portieri e poi ci verrà, scusate il ritardo, ma purtroppo non è colpa nostra, è una piccola incontrazione con il nostro buon lavoro, un po' al lupo, andiamo, vieni. Ragazzi ci dividiamo al solito, il gruppo di mister Berlini, dai, vediamoci, dai, vediamoci, dai, vediamoci, dai, vediamoci, qui ragazzi, qui noi, vediamoci, dai, vediamoci, dai, vediamoci, vieni, vieni, pallone a coppie, vieni, vieni, lasciali fuori, dai, si poi li metti a posto tu, Mario, eh, li metti a posto te, nel senso... Hai preso, bravo, è inutile, è inutile che la facciamo in avanti, due, sparate, yeeey, non fa saltare cento volte, metto c'è il tempo, una parola sola, cento volte, poi la traccia, grande bombe, tu o lui? E allora, se parti primo, buonasera, comandi, troppo semplice, prendiamoci parte di rischio, andiamo avanti su Pabla, rischiamo di sbagliare lo stop, se non basta 30 volte, poi è facile, sì, domandiamo, è troppo semplice, bravo, bravo, vai cambiare, ora io a difendere, dai, andiamo a rinforzare, va di gol, bravo, vai, veloce lì, veloce lì, vai e torna, veloce, però ti prendi batterismo, fatta, ho visto che ti passava, lo vediamo, senza, senza portarlo, eh, sei un grande, 10 secondi per andare al tiro 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 10 secondi per andare al tiro